Parte questa sera su Rai 1 alle 21.30 la nuova sede di Un medico in famiglia. Questa ottava edizione torna con le avventure della sempre più numerosa famiglia Martini guidata dall'insostituibile capo stipite nonno libero interpretato da Lino Banfi. Accanto a lui l'attore Giulio Scarpati nel ruolo dell'amato figlio medico Lele e tutti i nipoti. 13 prime serate che raccontano le difficoltà delle famiglie nell'Italia di oggi.